Edoardo Donnamaria Gela Antonella Fiordelisi, Nicolmi è stata vicino Grande fratello VIP, il concorrente non nasconde la sua delusione, ho avuto dubbi su Oriana Alfonso Signorini, in quest'ultima puntata del reality show, ha poi voluto scambiare quattro chiacchiere con Edoardo Donnamaria Difatti quest'ultimo sabato scorso ha puntato il dito contro il suo gruppo nella casa più spiata dagli italiani subito dopo quello che è successo durante la festa di carnevale E ovviamente alcuni di questi gli sono andati contro senza troppi convenevoli Solo in queste ultime ore la situazione si è decisamente rasserenata tra loro, come ha spiegato Signorini stasera in diretta Fino ad oggi pomeriggio ci hai pensato un po' su e ti sei poi ritrovato con i tuoi amici, ma posso chiederti se per qualche momento hai avuto dei dubbi o delle incertezze? E quest'ultimo ha tenuto a spiegare di aver comunque capito chiaramente chi gli vuole bene, aggiungendo di aver avuto per un attimo dei dubbi nei confronti dell'inquilina venezuelana, di Jaele e di Nicole Murgia Edoardo Donnamaria confessa alla fidanzata, Nicole mi è stata vicina quando io e te abbiamo litigato Successivamente il giovane concorrente del grande fratello Vip, ha anche dichiarato che uno dei motivi per cui ha spesso e volentieri litigato con Antonella Fiordelisi, è perché ha voluto scindere sempre l'amore dalle amicizie Aver sentito loro dire che avrei avuto paura di tornare da loro, solo per non far indispettire Antonella, è una stata una cosa inesatta E oggi abbiamo chiarito questa cosa Edoardo, che nei giorni scorsi è stato attaccato da Sonia Bruganelli, si è poi rivolto alla fidanzata asserendo di aver trovato in Nicole in Corvaia una vera amica, che ha saputo stargli vicino anche nei momenti più bui lì nella casa più spiata dagli italiani Nicole è stata la persona che mi è stata più vicino nella mia vita quando litigavamo e stavamo male Antonella Fiordelisi non ha il minimo dubbio, ci sono persone in casa che remano contro il mio rapporto con Edoardo Alfonso Signorini ha poi voluto sapere l'opinione di Antonella, la quale ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciata velenosa nei confronti del gruppo di amici del suo fidanzato Quando io ed Edoardo avevamo litigato, loro miravano a farci lasciare Gli dicevano di lasciarmi, i miei amici mai si sono permessi di parlare male di Edoardo Tuttavia Oriana Marzoli e Giaele sono subito intervenute asserendo senza indugio alcuno, che invece non hanno mai remato contro il loro rapporto E anche Donna Maria ha confermato La Fiordelisi è però rimasta fermata sulle sue posizioni, ed è scoppiata a piangere Nuova bufera in arrivo per la coppietta?